Quando in Italia c'hai successo, trovi sempre questa rabbia nel successo che fai. Non pensano che più successo hai, più tasse paghi, più contributi paghi, più gente assumi. No, questo loro non lo vedono, loro vedono solo il rancore. Se hai successo, gli girano i coglioni, perché l'Italia è un paese rancoroso, è un paese geloso, pieno di invidiosi. Tanto darvi un po' di invidia, vi dico che abbiamo aperto a Riade una settimana fa, stiamo facendo una media di mille clienti al giorno. Siete degli invidiosi e io vi adoro, perché mi fate una pubblicità della Madonna. Alla fine mi fate una pubblicità. Io sarò un genio e voi non lo siete, questa è la differenza.